Dopo l'introduzione fatta nel video precedente entriamo un po' nel concreto, andiamo a vedere come con un frontend per SQL Server o MySQL si possa aggiungere una store procedure al database. Inizio con MySQL, scegliete il frontend che preferite, io sto usando il workbench, quello standard di MySQL stesso, database quello che volete, store procedure, clic destro, create store procedure. Intanto la direttiva delimiter è specifica di MySQL, cioè non ce n'è bisogno poi in SQL Server. L'interprete dei comandi di MySQL considera il punto e virgola come lo stop, cioè ciò che gli chiede di iniziare a interpretare il comando inserito e ad elaborarlo, ma in una store procedure possiamo trovare 2, 3, 30 comandi e non vogliamo che il punto e virgola venga interpretato come ok, puoi cominciare a darmi risultati. Quindi lo si sostituisce, non necessariamente con questo doppio dollaro-dollaro, potremmo usare anche un'altra sequenza di caratteri. Ora potremmo mettere qui il terminatore, ma non essendoci nulla dopo possiamo anche evitare. Diamo invece un nome alla procedura, elenco climi perché sto lavorando con un database con la tabella dei climi tropicale, mediterraneo e va bene quindi questo. In MySQL sono richieste anche le parentesi pur vuote in previsione di specificare uno o più parametri. Ribadendo che non avrei mai scritto una store procedure giusto per un comando di seleppo così semplice, ecco il contenuto che vado a confermare. E non preoccupatevi se qui il nome è ancora quello generico perché quando darò l'ok e si andrà a fare il parsing dei comandi, questo andrà a sostituire automaticamente quello standard. Si procede facendo clic qua su apply, questo è il risultato del parsing e della generazione del codice, ma di suo il frontend ha aggiunto un po' di cose, va bene. In particolare aggancia il database, poi elimina l'eventuale vecchia store procedure con lo stesso nome, quindi drop, elimina la procedura, se la procedura elenco climi se esiste, e quindi la ricrea. Notate come qui cambi il delimitatore e poi però giustamente lo rimette a quello standard, il punto e virgola. L'accetto. E questo è il modo in cui si richiama una store procedure con MySQL, il verbo da usare, il comando è il call, letteralmente chiama, invoca. Di per sé non c'è poi neppure bisogno di specificare le parentesi aperte e chiuse per i parametri che mancano. Call elenco climi, punte virgola. E qua sotto il risultato. Sarebbe stato un problema mettere le parentesi? Naturalmente no. Non vi mostro come si possa richiamare da programma la procedura, preferisco demandare alle rispettive playlist, quella sul Visor Studio, C Sharp, Database e quella sul PHP. Vediamo invece come creare una store procedure con SQL Server. Qui potete scegliere tra il Management Studio, un frontend di terze parti. Io sono abituato a lavorare direttamente da Visor Studio e quindi continuo così. Ho aperto la struttura di un database qua in Explore Oggetti di SQL Server, se stati usando come me il Visor Studio 2013. Altrimenti ciascuna versione chiama in modo leggermente diverso questi pannelli, ma sostanzialmente tipo Explore Database, mi sembra di ricordare dal Visor Studio 2005-2008. Sto usando un piccolissimo database con una minuscola tabella che avevo usato per il corso di ASP.NET MVC. Contiene i dati di utenti, un user ID, uno username, l'email, una password e un qualcosa che serve a cifrare la password. Andiamo a localizzare nella cartella programmazione, sotto cartella Store Procedure, il punto in cui andarne a creare una nuova. Potreste trovare, come nel mio caso, già una sottocartella che è quella delle Store Procedure di sistema, da richiamare, se ne avete i diritti e i privilegi, per operazioni particolari. Di solito il nome è etichettato in modo tale che si capisca che è una Store Procedure speciale, SysSystem, punto e poi il vero nome. E potrebbe essere altresì una buona pratica, quando si va a creare una nostra Store Procedure, mettere un prefisso tipo USP, User Store Procedure, underline e poi il nome. Ok, è ancora un po' presto per preoccuparci di queste finezze. Clicco destro, sulla cartella quindi Store Procedure, aggiungi una nuova Store Procedure. Eccola, con la tipica annotazione SQL Server, questa è la parte che rappresenta il database, punto e qui il nome della procedura. Però possiamo anche, senza grossi problemi, andare a sostituire questa parte con un semplice elenco utenti. Lo scheletro già prevede un paio di parametri, ma possiamo sbarazzarcene. Notate come per SQL Server, le parentesi tonde, che avremmo anche potuto mettere, sono opzionali. Quindi questa e poi questa. Se volete mettete le parentesi, ma ripeto, potete anche andare a capo come fa il generatore di codice, oppure al limite anche di fila, è solo una questione di stile. Manca qualcosa? Beh, il begin and end, anche questi per SQL Server, sono opzionali. Io personalmente sarei portato a metterli. In più, abbiamo anche questo valore restituito al chiamante, cioè chi invocherà, come vedremo tra poco, la procedura, automatico, cioè senza bisogno di definire un cosiddetto parametro in uscita. Ma non è obbligatorio, potremmo toglierlo. Io lo modifico giusto per vedere poi come si fa a intercettare questo valore lato chiamante. Confermiamo il tutto. Dovete fare clic qui su aggiorna. La tentazione sarebbe un bel CTRL-S per salvare, no. Aggiorna. Aggiorna database. Eccola qui che spunta. E l'encutente. Il verbo da usare non è COL ma EXEC. E poi il nome della procedura. L'autocompletamento di Visual Studio è molto sofisticato e va a cercare per il completamento anche nel nome delle storie o procedure. e l'ha subito individuata. Procediamo. Esegui. Voilà. Per catturare il risultato restituito dal return dobbiamo prima dichiarare una variabile. declare, chiocciolina, è importante. Il nome, ris, risultato. Il tipo, int, intero. E un valore di default, di partenza, insomma, di inizializzazione. Poi l'exec va comandato in questo modo. Exec, questa espressione, che assegna il risultato restituito da elenco, utenti, al parametro, alla variabile RIS. E infine un select di RIS. Per vedere a video ciò che ha ricevuto. In sequenza vengono eseguiti due comandi. Il primo come effetto collaterale mostra anche a video l'elenco degli utenti come prima. E qua il famoso 99 restituito dal return. Ripeto, attenzione, non è questo un vero e proprio parametro di output, ma una cosa che ad occhio è particolare di SQL Server. Ci fermiamo. La prossima volta cominceremo a dare un'occhiata ai parametri e proveremo, se il tempo sarà sufficiente, anche a organizzare, a preparare delle store procedure con più comandi. E allora lì cominceremo a vedere i primi vantaggi. Ho letto in un post che uno sviluppatore, spostando tutta la business logic, la logica di business, dal programma sorgente, non mi ricordo se era C-Sharp o PHP, ed era una logica che evidentemente andava a sollecitare in continuazione lo scambio di dati con il server, mettendo tutto come un batch di comandi SQL direttamente sul server, ha avuto un incremento incredibile delle prestazioni, da 7 ore a 2 minuti. Questo proprio perché ha ammazzato, ha eliminato i tempi del continuo palleggio bot e risposta tra client e server. Occhio però, non sto dicendo che quindi dovete spostare per forza tutta la vostra business logic a livello di store procedure. Come in tutti questi casi, dobbiamo trovare un giusto equilibrio. Certe cose sarebbe una pazzia, una mezza stupidata, farle eseguire lato server e viceversa. Io non ho un'esperienza così vasta da potervi dare delle regole d'oro da seguire, però intanto vi ho messo un po' sull'avviso.